Alessandro Tanda tra presente e futuro della sport full time, la previsione quella degli europei del prossimo anno. Mi sono allenato molto bene fino ad aprile, campionati italiani assoluti, dopodiché ho dovuto un po' mollare per via dello studio. Mi sono diplomato fine giugno e adesso puntiamo questi campionati italiani di Roma per vedere cosa si può fare, cercare innanzitutto di migliorare. L'obiettivo principe è quindi campionati italiani e poi perché no, uno sguardo più in là perché poi potrebbe essere una qualifica per gli europei. Per gli europei si spera, adesso il prossimo anno ho deciso di prendermi un anno, solamente dedicarlo al motto, allenarmi ovviamente di più, nove allenamenti a settimana, per vedere che cosa possiamo ambire e a che cosa riusciamo ad arrivare. I nostri compagni comunque stanno crescendo molto bene, abbiamo altri compagni in squadra che si spera arrivino ai campionati italiani.